Buonasera da Daniele Maffei, ben ritrovati con Centropista, canale 10 del Digitale Terrestre, noi TV Versilia, ma potete seguirci anche in HD sul 510 del Digitale Terrestre. È il momento di presentare l'ospite di questa puntata, è un grande bomber, è un piacere che sia arrivato a Via Reggio, ringrazio di essere con noi stasera, Sergio Festa. Grazie a te Daniele, buongiorno a tutti. E poi ringrazio come sempre il nostro compagno di viaggio, Roy Lepore, in studio con noi. Buonasera. Andiamo con i risultati di questa quinta giornata di campionato. Scandiano-Breganze 4-5, Bassano-Sandrigo 7-3, Sarzana-Amatori-Lodi 3-5, Centro-Tiene 7-2, Follonica-Trissino 2-2, Monza-Vercelli 5-2 e Valdagno-Forte-De Marmi 2-2. La classifica Lodi 13 punti, Follonica e Breganze con 11, Forte-De Marmi, Trissino e Sarzana 10, Valdagno 8, Scandiano 7, Centro-Bassano e Monza 6, Amatori-Vercelli 1 punto, Sandrigo e Tiene a 0 punti. La classifica Marcatori, in testa Claudio Cacao del Sandrigo con 10 reti, seguito da Tataranni, Mitianz e Verone Crespoliva con 8 reti, poi Luzzi, Neves e Formagé con 7 reti. I marcatori del centro, Geppi Selva 6 reti, Festa, Montigel e Ventura 4 reti e Gavioli 1 rete. Sergio, cominciamo a parlare subito della vittoria di sabato con il Tiene, ottima prestazione, hai sbloccato tu il risultato e è importante perché cominciano a arrivare risultati in continuazione, quindi c'è una continuità importante. Anche se la Lega Hockey, il nostro amico Ventura, ma io da sopra, ho visto che l'avevi... Il gol di festa, lo diceva, l'importante è che viene assegnato al viareggio il gol, quello poi, l'importante è quello, no? Sicuramente era una partita da vincere, l'abbiamo vinta, siamo in una fase positiva dopo comunque un inizio negativo e ora pian piano dobbiamo scalare posizioni. Chiaramente l'avversario non era dei più forti, però per noi è stata comunque una grande iniezione di fiducia, quindi dobbiamo continuare così. Ora ci aspetta una settimana di duro lavoro, di concentrazione perché comunque dobbiamo dare seguito a questi risultati e come hai detto prima dobbiamo un po' iniziare a risalire la classifica. Roy, l'importanza di questi risultati che cominciano ad arrivare e poi come dicevi te, festa, gepi, cominciamo anche a segnare delle reti che sono importanti. Sì, all'inizio, ecco Sergio, ti sentivi un attimino un po' questa pressione che il gol non arrivava oppure eri tranquillo che prima o poi riuscivi a farlo? Anche perché chiaramente l'attaccante ci sono dei momenti particolari, tipo l'altra sera, sfiori la pallina, fai gol e ci sono dei momenti in cui ce la metti tutta e la pallina non entra dentro, però io tutti abbiamo molta fiducia in te chiaramente. No, sicuramente quando uno inizia il campionato deve comunque ricordarsi quello che ha fatto gli anni prima e quindi comunque deve rimanere tranquillo. Io bene o male sono un giocatore che la palla l'ha sempre messa dentro, ora posso fare dieci gol in meno, dieci gol in più in un campionato ma quello non penso sia importante. Sarà importante quest'anno sicuramente fare i gol importanti nelle partite che conteranno. Chiaramente per un attaccante è importante il gol. L'unico rammarico che ho non è tanto il gol che mi è mancato quanto il mio supporto nelle prime tre giornate dove abbiamo raccolto praticamente zero punti e probabilmente il festa che era l'anno scorso diciamo sempre pronto a buttare la palla dentro, magari serviva subito le prime tre giornate dove non c'è stato. Il mio più grande rammarico è quello, non aver dato una mano nel momento che serviva. Se mi promettiti il fermo, a Sarzana chiaramente il finalizzatore dell'azione del gol eri te, qua siete diversi quindi anche te mentalmente ti devi forse abituare anche a una cosa diversa rispetto a quella dove sei sempre stato e dove hai realizzato 40 gol, ma noi quest'estate si diceva e te l'hai detto magari 30, però 40 forse sono tanti. No, ma non è questione di gol, chiaramente a Sarzana rimanevo in pista 48 minuti a partita, tiravo rigori, punizioni, mi caricavo la squadra sulle spalle nei momenti più delicati, chiaramente sentivo questa responsabilità. E' chiaro che qui in una squadra dove comunque ci sono tanti giocatori dello stesso livello, dove comunque bisogna raggiungere un obiettivo tutti insieme, la responsabilità va un attimino suddivisa per tutti i giocatori, perché siamo una squadra competitiva, perché siamo dieci giocatori e ognuno deve fare il suo, perché per raggiungere determinati obiettivi c'è bisogno dell'aiuto e del 100% di ognuno. Quindi non è un problema il gol più o meno, ma è importante dare il proprio contributo alla squadra. E poi comunque Sergio, nelle prime tre giornate c'è stata anche tanta sfortuna, non solo te, ma comunque sembrava in tante occasioni che la pallina non volesse entrare in quelle tre partite. Sicuramente la prima di campionato è stata un po' l'emblema del nostro lato negativo nella realizzazione. Pali, traverse, palline danzanti sulla linea. Miracoli del portiere. Miracoli del portiere. Chiaramente nasce tutto in una serata dove la pallina non vuole entrare. Noi probabilmente abbiamo fatto qualche errorino e abbiamo pagato a caro prezzo, però diciamo che la prima di campionato è stata un po' una partita strana. Abbiamo comunque dominato, ma non abbiamo messo la palla dentro e non abbiamo vinto. Poi chiaramente la seconda a Trissino sono stati tanti errori insieme. La partita fino al primo tempo l'avevamo giocata. Poi abbiamo fatto degli errori individuali, ma abbiamo cancellato subito. Non li abbiamo più rifatti. Già dalla partita col Forte ci siamo rimessi in carreggiata. Anche lì è mancato il gol, perché abbiamo avuto molte più occasioni di loro. Però ci è mancata la nota positiva del gol. Abbiamo continuato a lavorare con tranquillità. Abbiamo superato un momento difficile. Abbiamo iniziato a mettere fino in cascina. Ora però dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo vinto con Santrigo e Tiene. Quindi va bene mettere i punti in classifica, ma ora bisogna farlo in una maniera più prepotente. Quindi lavorare bene in settimana, con umiltà, affrontare tutte le partite con la concentrazione giusta. Sicuramente. È il momento della sintesi centro-tiene. Nel commento di Roy Lepore le riprese di Vincenzo Calvanese. Dopo l'infortunio subito sulla pista di Santrigo sette giorni prima, il portiere Leonardo Barozzi recupera in extremis e difende la porta via Regina nella partita vinta dai bianconeri 7 a 2 con il Tiene, lasciando poi nella finale di gara il posto a Torre. Marcatore della serata G.P. Selva con una tripletta, ma l'assistman Ventura è stato sugli scudi. Apre le marcature per il C.G.C. Festa all'8.21 che devia al volo una conclusione da lontano di Ventura, che confeziona un assist alla bacio per G.P. Selva per il 2-0. Poi Ventura stesso realizza un rigore all'1.14. A 30 secondi dalla conclusione del primo tempo, su una punizione Selva porta il C.G.C. sul 4-0. Nella ripresa Casarotto per gli ospiti si fa parare un rigore da Barozzi. Casarotto che però segna il 4-1, che viene subito replicato da Ventura per il 5-1. Palo di festa, Piroli non sfrutta il decimo fallo del C.G.C. mandando alta la punizione. Poi Selva ancora su un assist perfetto di Deini, che realizza il 6-1. C'è un blu a Selva, ma Ardit si fa rispingere ancora una volta la pallina da Barozzi. Poi nel finale Montigel segna il 7-2 per la formazione via Regina, preceduto dal gol di Sperotto al 2-56 per il momentano 6-2. Una vittoria importante per il C.G.C. che ora sabato prossimo va in trasferta sulla pista di Bassano. Siamo tornati in studio, andiamo ad ascoltare subito il nostro mister Francesco Dolce. Francesco Dolce, si sapeva che chiaramente avversari di questo genere, il campionato di quest'anno e di questa musica, dovevano così mettere un po' di difficoltà alla squadra, però una volta trovato il gol è venuto fuori il vero centro. Sì, sicuramente. Ho visto una squadra più tranquilla stasera. Quello che penso sia stata la chiave della partita è quella. Abbiamo giocato con tranquillità, senza fretta, abbiamo una grande qualità e se siamo tranquilli riusciamo poi a mettere in pratica tutto quello che dobbiamo fare. Questo è un concetto che stai ribadendo da quest'estate, quindi hai proprio per la convinzione in questo gruppo, perché chiaramente lo vivi quotidianamente, quindi chiaramente sai i valori di questa squadra. Hai ruotato diversi giocatori, dato spazio anche ai giovani, gli amarosi, dei nite, poi dentro anche i gaviori, tanto minutaggio per gestire un pochino un Reinaldo Ventura che se, come dico sempre, è il bello lucido, insomma si vede, no? A vero o non a vero, nelle tre partite si è visto che non c'era. No, io sono contento di tutti i ragazzi, stasera tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene, e Liam era un po' che volevo provarlo, che volevo trovare la situazione giusta, diciamo, per metterlo, per non dargli più della responsabilità che si merita. Però è entrato, ha fatto bene, ha giocato tranquillo, ha fatto quello che doveva fare, sono molto contento di tutti. Siamo tornati in studio, ci fermiamo soltanto un attimo e torniamo subito con voi. Ben ritrovati con Centro Pista. Prima di analizzare tutte le altre partite della giornata, andiamo ad ascoltare ai microfoni di Roy Lepore, Gepi Selva. Centro Pista porta proprio bene, tre gol di Gepi Selva, scatenato come tutto il centro, stasera con te il TN. Sì, allora vengo ogni lunedì, se volete. No, credo sia fatta una partita come dovevamo fare, una partita dove volevamo recuperare le sensazioni, dopo San Drigo, e far vedere al pubblico che avevamo voglia, che noi ci siamo e ci saremo, speriamo. Ci saremo anche a Bassano, per tentare ora di sfruttare questo calendario che sembra, diciamo, alla portata, anche se non bisogna sottovalutare nessuno. No, per niente. Andare a Bassano solo la trasferta è dura e poi loro hanno un gioco anche abbastanza difensivo, che loro sono chiusi, hanno un possesso di palla lungo, quindi non sarà facile, sarà dura, ma ora abbiamo delle belle sensazioni, abbiamo più fiducia tra di noi e aspettiamo di portare a casa i tre punti. Le sensazioni con queste partite le abbiamo anche noi, tutti i tifosi bianconeri? Per quello le avremo ogni giorno, per quello alla fine lavoriamo e ci piace giocare all'occhi, perché alla fine vogliamo tutti i tre punti, vogliamo vincere, ma anche giochiamo per il pubblico e anche capiamo che loro a volte ci criticano così, ma loro giochiamo per lui, per loro e vogliamo far vedere che abbiamo gioco, che abbiamo una squadra e che loro vogliamo che godano con noi. E noi godiamo. Ciao, grazie. Siamo tornati in studio, cominciamo a vedere le altre partite di questa quinta giornata, partiamo da Valdagno-Forte de Marmi 2 a 2, il servizio di Roy Lepore. Sulla pista del paladito di Valdagno, l'Hockey Forte de Marmi strappa in extremis un pareggio per 2 a 2, tutt'altro che scontato, recuperando una partita che dopo un inizio favorevole si era messa tutta in salita. Aveva infatti aperto le segnature per l'Hockey Forte de Marmi Cajas, poi nel secondo tempo c'è stato il pareggio di Centero per ciò che riguarda il Valdagno, ma Tataranni addirittura sul tiro di rigore è riuscito a portare la sua squadra sul punteggio di 2 a 1 battendo Gnata che anche come aveva già fatto vedere nel derby con i 100 giovani calciatori è stato uno dei migliori dei Rosso-Blu. Nel finale di incontro è arrivato il pareggio di Pratero che abbandona poi il campo per infortunio. La campana dell'orgoglio per il Forte che al 23-07 è riuscito a trovare ancora in inferiorità numerica il gollo con una prudezza proprio di Franco Pratero che con un'alza e schiaccia a fil di palo non ha lasciato scampo a Trabala uno dei migliori portieri in circolazione. È il definitivo 2 a 2 l'infortunio nel finale che condanna proprio Pratero a bordo pista obbliga il Forte ad accontentarsi di un punto prezioso sull'ostica pista vicentina. E adesso sabato alle porte c'è la partita interna con il Breganze dove ovviamente la formazione di Pierluigi Bresciani vuole tentare il colpaccio dei tre punti. Siamo tornati in studio Roy Lepore parliamo anche dell'Eurolega. Sempre legata alla Forte sabato 17 novembre seconda partita di Eurolega contro gli iberici della liceola Colunia sulla pista neutra di Correggio la società Forte Marmina organizza un pullman con 25 euro il biglietto sia dell'autobus che del biglietto del Palasport 12 euro solo il biglietto e 15 euro solo il basta le prenotazioni entro mercoledì 7 alle ore 20 e anche per informazioni sulla pagina Facebook della società. Sergio, un pareggio tra Valdagno e Forte De Marni due squadre che puntano in alto puntano allo scudetto un gran degnata partita però abbastanza equilibrata. Sicuramente sono due squadre con delle potenzialità chiaramente sono da vertice e probabilmente in pista si è visto un po' insomma quello che rispecchiano le due squadre. Si sono equivalse probabilmente un pareggio che agevola la nostra risalita però noi sinceramente dobbiamo guardare a noi non guardare le altre. Chiaramente con questi pareggi che ci sono stati si è bloccata un po' la classifica è una classifica che nel si è accorciata diciamo. Si, si nel giro di 5 punti ci sono 8 squadre quindi chiaramente il campionato è ancora molto lungo però ci sono tante squadre competitive. È il momento di parlare invece di Sarzana Amatori Lodi Lodi ha vinto 5 a 3 ottima la prestazione ancora una volta della squadra di Alessandro Bertolucci il Sarzana in vantaggio il Lodi con Malagoli al 24 e 40 poi la doppietta di Rossi aveva portato sul 2 a 1 il Sarzana poi il pareggio di Compagno il Luzzi porta avanti il Lodi il pareggio di Ipinazzar e poi negli ultimi due minuti e mezzo il Lodi trova l'allungo decisivo con Verona il Luzzi anche qua Sergio una vittoria del Lodi soffertissima su una pista che conosci bene difficile con un Sarzana che continua a giocare bene sì sicuramente il Lodi probabilmente ora è la squadra secondo me più completa perché ha una una grande fase difensiva e sicuramente anche davanti ha un ottimo un ottimo attacco è una squadra già collaudata che viene da diversi anni che gioca insieme e che comunque fanno parte anche della nazionale il Sarzana è una squadra comunque molto ostica nel suo palazzetto chiaramente fa il suo fortino è una squadra che comunque gioca fino alla fine e che può sempre insomma trovare lo spunto per mettere in difficoltà tutti quindi alla fine si è visto questo in pista comunque una partita molto equilibrata che si è risolta con una diciamo un tiro da fuori come tante altre partite un altro pareggio che come diceva Sergio serve al centro per avvicinarsi ma dimostra quanto è equilibrato questo campionato è quello tra Follonica e Trissino 2 a 2 in vantaggio il Trissino con Formagé poi Federico Pagnini su rigore pareggia per il Follonica Nicoletti riporta ancora una volta avanti il Trissino e poi a 5.43 dalla fine della partita Gelma riesce a pareggiare Sergio un Follonica che nelle ultime due partite due pareggi il Trissino comunque dimostra ancora una volta di essere una squadra che non è facile da affrontare per niente sicuramente il Trissino è una squadra molto difensiva e quindi è chiaramente difficile da attaccare ed è molto veloce nelle ripartenze il Follonica comunque dimostra che è ancora in alta classifica e comunque insomma non lo scopriamo ora che è una squadra molto organizzata che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia che comunque ha dei giocatori validi e sicuramente rimarrà tra le prime otto per giocarsi playoff Coppa Italia e tutti i titoli che si può giocare il Breganze invece che era partito con il pareggio con il Vercelli ha cominciato a carburare e ha vinto su una pista davvero difficile quella di Scandiano per 5 a 4 la doppietta di Teisido per il Breganze porta su 2 a 0 i Veneti poi Montivero ex Bianconero trova il 2 a 1 poi segna il Viareggino Muglia ancora Martínez poi Montivero Mitianze poi torna sotto nel finale lo Scandiano con Beili e Saavedra ma non riesce a pareggiare e questa Sergio è una vittoria importante perché il Breganze dopo aver vinto con il Valdani è andato a vincere anche su questa pista quindi nell'ultimo 2 partite 6 punti importanti per una squadra che punta anche questo allo Scudetto sicuramente il Breganze è un collettivo di primissima fascia loro erano partiti anche con qualche problemino pareggiando un paio di partite però poi alla lunga la qualità la qualità ce l'hanno e hanno fatto degli ingaggi importanti quest'estate quindi sicuramente è una squadra competitiva e hanno fatto un grandissimo risultato Monza Vercelli il Monza vince 5 a 2 Zucchetti Franci Olè Franci portano in avanti il Monza sul 3 a 0 alla fine del primo tempo 4 a 0 all'inizio della ripresa poi Raffelli trova il 4 a 1 poi ancora Olè e poi Ferrari Sergio il Monza è una squadra giovane però comunque è una squadra che in tutte le partite compresa quella di Eurolega ha dimostrato che può mettere in difficoltà tutte ancora una volta lo ripetiamo sempre ma questo campionato forse è davvero uno dei più equilibrati degli ultimi anni sì io lo metterei sicuramente negli ultimi 10-15 anni è proprio molto ma molto equilibrato forse a parte Sandrigo e Tiene il resto sono tutte squadre che fino all'ultimo minuto se la giocano con tutti il Monza anche questa è una squadra collaudata di giovani sono già diversi anni che giocano insieme hanno entusiasmo Monza è una piazza comunque storica e quindi è sempre molto difficile affrontarli anche loro dopo qualche difficoltà stanno iniziando comunque a risalire sarà una squadra che darà a noi a parecchie squadre lassù facciamo un passo indietro torniamo a sabato il debutto in pista con il centro per Liam Rosi l'intervista di Roy Lepore spazio in questa partita vittoriosa del centro con il Tiene anche per Liam Rosi il cui allenatore ha molta stima di te insomma quindi diciamo che questa è già una bella cosa sì sì sono molto contento perché ovviamente ero abituato a altre cose quindi mi sono ritrovato in un palcoscenico diverso e speravo di giocare stasera e sono molto contento perché ho anche aiutato la squadra in questa vittoria che è molto importante e speriamo di avere spazio anche in futuro bene grazie complimenti in bocca al lupo ora c'è una striscia di risultati che potrebbero essere alla portata no della squadra sì sì lo sappiamo ne siamo consapevoli e affrontiamo queste partite come se fossero tutte finali e sappiamo che sono partite molto importanti perché ci possono fare un fare un bel salto in classifica e cerchiamo di dare il massimo le prossime partite siamo tornati in studio ci fermiamo ancora un attimo e torniamo subito con voi ben ritrovati con centro pista è il momento della nostra rubrica tutto e di più protagonista Sergio Festa Sergio Festa nasce a Matera il 20 febbraio del 1985 Sergio quando inizi a giocare ad hockey inizio abbastanza presto come tutti del resto avevo 4 anni avendo il palazzetto vicino casa chiaramente nel nostro rione tutti i ragazzi e i bambini a quei tempi andavano a giocare a hockey sei cresciuto nelle giovanili del Matera a 15 anni arriva il debutto in A2 nel 2000 che emozione è debuttare in Serie A comunque in A2 Serie A con la maglia della propria città sicuramente è un'emozione unica in quel momento ti senti più grande ti senti maturo hai voglia di dimostrare quindi è stata una bella emozione all'epoca giocavo già con giocatori molto più grandi di me esperti che avevano già macinato campionati di A1 quindi era un mondo che si apriva ed era un modo per diciamo imparare e per crescere A 18 anni ti trasferisci al roller Salerno dove rimani 4 stagioni quanto si è cresciuto perché poi la prima volta che sei andato via di casa Sì beh sicuramente diciamo il Salerno a quei tempi aveva una corazzata perché c'erano 4 argentini Oviedo Farran Guerrero Marimont Ortiz Cerantezza quindi insomma era una squadra di spessore infatti si arrivò terzi quel campionato lì e lì per me era tutto nuovo doppi allenamenti doppie sedute tutti i giorni quindi chiaramente il salto di qualità è avvenuto proprio quegli anni là nel 2007 passi al Castiglione arrivi in Toscana poi dopo l'anno dopo Bassano 54 e Seregno mezza stagione a Bassano e mezza stagione a Seregno comunque due anni importanti dove si cominciava a vedere che festa era un campione poi ne parliamo dopo perché l'anno dopo c'è stata proprio l'esplosione di Sergio ma quei due anni quanto sono stati importanti ormai ti eri anche abituato a essere fuori casa sì ormai avevo intrapreso la strada del giocatore dopo Salerno praticamente il Bassano acquistò il mio cartellino però aveva già la squadra completa e mi mandò in prestito al Castiglione dopo Castiglione comunque rientrai a Bassano però ci furono dei problemi preferì a metà stagione andare via comunque fu un'esperienza importante a Seregno mi ricordo comunque che arrivai erano ultimi in classifica abbiamo raggiunto i playoff quindi fu una stagione veramente importante anche a livello personale e poi comunque l'anno dopo a Bassano abbiamo fatto una stagione diciamo normale tranquilla però a livello personale penso che mi sono espresso nel nel migliore dei modi infatti nel 2009 2010 vai a roller Bassano una squadra che arriva adesso ma quindi comunque una salvezza tranquilla però segni 43 reti in campionato e poi arriva la convocazione maglia azzurra per gli europei e insomma tanta roba per il Seregio Pesta sì chiaramente quell'anno lì a livello personale fu importante con quella squadra lì puntavamo ad altro però non ci andò bene poi arrivò la chiamata in nazionale avevo già comunque fatto le giovanili quindi conoscevo già un po' l'ambiente e se non mi sbaglio andai proprio con con Alessandro Cupisti il primo anno c'era lui come allenatore esatto a seguire tre stagioni all'amatori Loria arrivi in una grande squadra nel 2011 2012 con Marzella allenatore arriva anche la Coppa Italia un anno importante quello perché arriva la Coppa Italia dominata la regular season però qualcosa succede avevamo già parlato anche con Nando Montigel ma qualcosa succede nei playoff perché tutto in un colpo vi fermate cioè non sembrate più quella corazzata che eravate cosa successe? Allora noi effettivamente quell'anno lì eravamo una squadra molto organizzata abbiamo battuto tutti i record che potevamo battere 9 punti sulla seconda del campionato dove punti di distacco record di vittorie consecutive insomma tanti record che poi effettivamente servivano a poco però eravamo molto organizzati eravamo combattivi avevamo degli obiettivi ben precisi volevamo vincere tutto quell'anno abbiamo vinto la Coppa Italia in campionato abbiamo dominato poi siamo arrivati comunque ai playoff un po' zoppicando forse problemi un po' fisici forse una preparazione un po' sbagliata ma secondo me sicuramente ha influito anche la Coppa Campioni che abbiamo organizzato a Lodi e abbiamo perso ai quarti contro il Reus una partita che si dominava dove eravamo in vantaggio e alla fine si è persa e probabilmente a livello mentale ci ha un po' spento avevamo perso la prima partita a Valdagno poi abbiamo giocato la Coppa Campioni e tre giorni dopo abbiamo giocato il ritorno a Lodi che comunque è stata una partita molto tirata che abbiamo perso a Golden Goal quindi molto ovviamente quella partita di Coppa Campioni è stata determinante per sì perché secondo me alla fine avevamo puntato tanto su questa Coppa Campioni la volevamo a tutti i costi avevamo un sogno dovevamo battere il Reus per andarci a giocare la semifinale col Barcellona era il nostro sogno e poi chiaramente tutto ci è crollato sotto i piedi uscendo ai quarti con il Reus comunque dominando una partita però è andata male probabilmente a livello anche psicologico e fisico poi si è un po' incastrato tutto probabilmente si doveva andare a gara 3 ma abbiamo avuto anche la sfortuna e al Golden Goal siamo usciti fuori 2013-2014 vai in un'altra grande squadra il Valdagno che era campione d'Italia anche quell'anno lì vinci la Coppa Italia con il Valdagno però la finale playoff la perdete col Forte che vince il primo scudetto anche quell'anno lì siete arrivati a pochissimo dal bersaglio grosso sì anche quell'anno lì avevamo una bella squadra secondo me anche lì stesso discorso oltre a vari problemi che non stiamo qui a elencare però è successa un po' la stessa cosa abbiamo vinto la Coppa Italia avevamo entusiasmo anche quell'anno lì volevamo vincere tutto siamo andati a fare i quarti di Coppa Campioni siamo andati a vincere a Vendrell e poi in casa abbiamo perso a qualche minuto dalla fine abbiamo perso di un gol e quindi siamo usciti fuori avevamo già in testa la Final Four di Coppa Campioni e anche lì è successa un po' la stessa roba solo che a differenza di Lodi comunque siamo riusciti ad arrivare in finale abbiamo fatto dei grandi playoff ma probabilmente la delusione anche della Final Four di Coppa Campioni un po' i problemi che si erano accumulati durante la stagione siamo arrivati alla finale col forte un po' zoppicando anche se alla fine si vinceva a gara 1 e anche lì a pochi minuti della fine l'abbiamo buttata via probabilmente poi a livello psicologico gara 2 e gara 3 abbiamo mollato dopo Valdagno torni a casa torni a Matera perché Matera vuole costruire una grande squadra arrivano tanti campioni in questi due anni a Matera però il problema grosso che voglio analizzare con te poi sappiamo come è finita la storia del Matera ma al sud abbiamo tantissime grandi squadre che hanno fatto la storia del Lodi Matera il Giovinazio ma anche il Salerno come si può riuscire a far tornare questo campionato un po' più nazionale quindi tramite la federazione tramite le società andare a recuperare queste squadre del sud che poi sono storiche per l'occhio su pista sì chiaramente il sud nell'occhio è tradizione chiaramente bisogna anche capire i momenti quando eravamo piccolini noi c'era l'occhio e basta ora per un ragazzino ci sono tante altre distrazioni è più difficile attirare un ragazzo a fare occhi però bisogna ripartire dai giovani bisogna ripartire dai piccolini bisogna fare proprio la grande nelle scuole bisogna incentivare in qualche modo la conoscenza di questo sport bisogna coltivarlo bisogna fare dei centri di specializzazione bisogna fare dei raduni bisogna invogliare la gente e i bambini a praticare questo sport ci vuole tempo ci vuole programmazione questo ci vuole due anni a Sarzana due anni importanti l'anno scorso 43 gol però arriva l'anno prima la finale la final four di Coppa Scherz proprio a Via Reggio l'anno scorso avete vinto la Confederations Cup quanto è stata importante Sarzana per ripartire anche dopo l'esperienza di Matera con una società che poi si era sciolta sì per me era importante perché comunque venivo da una squalifica dove ero più di un anno fermo comunque avevo voglia e passione Sarzana è una società piccola ma nella sua organizzazione è grande comunque anche loro hanno passione hanno tanta voglia e hanno questo entusiasmo che ti trasmettono quindi per me è stato tutto semplice io avevo la voglia loro avevano l'entusiasmo le cose si sono unite e inaspettatamente da una da una stagione dove ci dovevamo salvare è arrivata comunque la final four di Coppa Scherz sono arrivati i playoff sono arrivate le finali di Coppa Italia è arrivato tutto insieme quindi in questi due anni chiaramente ho ritrovato anche entusiasmo che magari nell'ultimo anno avevo un po' perso arrivi a Via Reggio in un'altra grande squadra quali sono i sogni gli obiettivi e poi speriamo di di alzare qualche trofeo non c'è allora chiaramente dopo due anni a Sarzana dove comunque ci sono andato vicino abbiamo sognato una finale con Via Reggio in Coppa Scherz dove comunque avevamo degli obiettivi ci credevamo dove lavoravamo bene però ci siamo sempre fermati ora come in passato all'Orival Danio e in altre squadre arrivo in una società dove c'è tantissima tradizione tantissima aspettativa e di conseguenza c'è anche pressione c'è la voglia di vincere quindi noi siamo qui per questo chiaramente tutti i giocatori vogliono vincere è chiaro che per raggiungere determinati obiettivi però c'è bisogno di una programmazione di costruire questo obiettivo quindi lo si fa ogni giorno in allenamento noi abbiamo il sogno di riportare a Via Reggio dei trofei però bisogna fare un passettino alla volta bisogna fare un gradino alla volta e lavorare con tanta umiltà grazie Sergio Roy la domanda di Roy a Sergio come tanti atleti di diverse discipline compresa quella degli occhi scoprite Via Reggio la Versia e vi fermate qui un po' casualmente anche per motivi familiari ecco cosa è che ti ha tratto qua oltre che chiaramente tua moglie e la famiglia sicuramente chiaramente la famiglia prima di tutto ho deciso di fare dimora fissa qua a Via Reggio e chiaramente però ti manca un po' la tua materia? ma sinceramente io avevo che poi scusa è bellissima come città sì no no la città è favolosa e chiaramente mi manca mi manca anche la mia famiglia ce le ho tutti fuori quindi qui a Via Reggio non ho nessuno però nella mia testa io ho sempre deciso di vivere al mare di costruirmi una famiglia qui e poi sportivamente parlando comunque anche quando ho giocato in altre società l'idea di Via Reggio o comunque di squadre che che vivono sul mare mi ha sempre entusiasmato anche le stagioni che sono stato a Salerno che ero al mare stavo bene mi dà una sensazione di libertà quindi quella è una nota molto molto importante quindi ora sono qui a Via Reggio e spero che questa atmosfera comunque la mia famiglia l'ambiente e la voglia l'entusiasmo che c'è di portare qualcosa di importante siano di aiuto bene grazie Sergio ci fermiamo ancora un attimo e torniamo subito con voi bene ritrovati con Centro Pista torniamo un attimo indietro ancora sabato all'intervista al direttore sportivo del Cgc Alessandro Pardini Alessandro Pardini il centro sta crescendo avevate fiducia chiaramente in questi ragazzi qualche strigliata delle tue dicendo di essere più concreti sotto porta c'è stata è stata recepita perché insomma sette gol sono arrivati sì sono andati sette reti una buona partita giocata a ritmi abbastanza alti forse ora una delle nostre priorità è quella di riuscire a cambiare un pochino ritmo cioè non giocare sempre a 180 all'ora ma riuscire a rallentare un po' il gioco e poi invece riandare in accelerazione perché abbiamo dei giocatori molto veloci stasera è stata una buona partita abbiamo sofferto un po' nella prima parte del primo tempo ma poi sinceramente diciamo è stata una una gara gestita abbastanza bene si è trovato anche il gol diciamo non facilmente però si è trovato anche il gol questo è sicuramente un aspetto positivo i risultati servono per dare più fiducia all'ambiente dare più fiducia ai ragazzi quindi in questo senso è sicuramente un risultato importante mi ha fatto piacere e rientro di Leonardo in questo modo perché ha sicuramente dato dimostrazione di esserci di esserci con la testa di esserci col cuore e quindi questa è una cosa molto importante per noi ed ora ci aspettano altre tre partite veramente importanti in cui noi dobbiamo essere super concentrati e super determinati perché valutando anche i risultati di stasera sono dei risultati abbastanza interessanti le squadre avversarie per noi chiaramente dovendo puntare playoff dobbiamo in questo punto accelerare ma accelerare in maniera veramente importante siamo tornati in studio cominciamo a parlare del settore giovanile fermo il campionato under 19 però si è giocato un recupero Forte De Marmi Follonica 6 a 9 la classifica SD Viareggio 9 Follonica e Centro 6 Forte De Marmi 3 Malizeti e Sarzana a 0 il prossimo turno venerdì 9 novembre alle 20.45 al centro polivalente di Sarzana Sarzana Centro fermo anche il campionato under 13 anche in questo caso due recuperi Sarzana A contro SD Viareggio 0 a 2 e Sarzana B contro Follonica B 1 a 12 la classifica Follonica A e Follonica B 9 punti Forte De Marmi 6 punti Centro Sarzana A Sarzana B e ASD Viareggio 3 punti Forte De Marmi a 0 punti il prossimo turno domenica 11 novembre Sarzana contro Centro alle 15.45 al centro polivalente di Sarzana è arrivato invece il debutto dell'under 11 di Francesco Dolce purtroppo i campioncini bianconeri sono stati sconfitti contro i Pumas Viareggio di Mirco Bertolucci per il centro la rete è stata segnata da di Roma ricordiamo tutti i giocatori del CGC Gabriele Totti Thomas Puccinelli Samuele Di Roma che poi ha segnato la rete Leo Dolce Tommaso Bardi Josue Santaniello Tommaso Bertuccelli Dario Migliotti Matteo Corretti Edoardo Barzotti e Daniel Pelliccia Roy c'è stato un debutto particolare una tradizione che continua in famiglia Bertolucci perché c'è stata Bianca figlia di Mirco che ha debuttato in Porta e questo direi fa bene sperare per il futuro dei giovani perché chiaramente qualunque casacca si vesta l'importante come diceva appunto Sergio prima che si parta proprio dai giovani da questi leve per far proseguire questo sport che ovunque si pratica che è uno sport sempre molto bello e che appassiona quindi bocca al lupo a Bianca gli altri risultati Follonica A Salzana 4 a 0 ha riposato il forte le mamme la classifica Follonica A AS di Viareggio e Pumas 3 punti centro Grosseto Salzana è forte a 0 per quanto riguarda la serie B i risultati Malisetti Prato Grosseto 0 a 11 Follonica B Siena 6 a 4 intanto vediamo le foto della squadra della serie B centro Follonica 4 a 12 hanno segnato Cinquini Pucinelli Raffelli e Santucci Rotellizzica Camaiore Viareggio Hockey 2 a 4 Sarzana Prato 3 a 3 la classifica Grosseto Viareggio Hockey Follonica 9 punti Hockey Prato 7 Siena 4 Follonica B 3 punti Camaiore Sarzana 1 Malisetti Prato e centro a 0 punti Il prossimo turno della serie A1 invece la sesta giornata quella di sabato prossimo Vercelli contro Sarzana Bassano centro Trissino scandiano Forte dei Marmi Breganze Sandrigo Monza Lodi Follonica e Tiene Valdagno Andiamo a vedere la sintesi di Bassano Sandrigo della quinta giornata il Bassano ha vinto per 7 reti a 3 in vantaggio per 2 a 0 con i gol di Scuccato e Crespo Oliva poi Pozzato per il Sandrigo poi Barbieri e Neves ancora per il Bassano primo tempo che si è chiuso 4 a 1 per la scuola di Bassano nella ripresa Poletto e Campagnolo portano sotto il Sandrigo fino al 4 a 3 poi chiudono la partita Crespo Oliva Neves e ancora Crespo Oliva Sergio Sabato si va a Bassano una squadra che l'anno scorso ha giocato un ottimo campionato arrivarono quinti in regular season quest'anno sono partiti un po' zoppicando però sicuramente anche se hanno perso Giulia è una pista davvero temibile Sì Bassano si sa è una squadra diciamo organizzata che fa della difesa del contropiede la sua arma li conosciamo bene loro come noi hanno vinto contiene Sandrigo quindi hanno avuto anche loro come noi un inizio un po' altalenante però ora insomma bisogna affrontarsi e bisogna andare a Bassano con la concentrazione e con la voglia di iniziare a fare una striscia positiva dei risultati e dare continuità a quello che abbiamo fatto finora però l'angolo del tifoso sì l'angolo del tifoso perché chiaramente è un'iniziativa molto interessante da parte della società del centro di giovani calciatori nelle partite casalinghe c'è l'estrazione di un premio il primo estratto per l'abbonamento io sostengo il centro offerto dalla giuglieria Momenti d'Oro è stato vinto da Elena Campera che noi vediamo nella foto ovviamente di Paola e Vittoria che sono due affezionate tifosissime del centro di giovani calciatori che chiaramente seguono la squadra anche in trasferta e questo è diciamo il primo premio per Elena Campera il secondo premio estratto per l'abbonamento io sostengo il centro messo in palio da Eletro Impianti Jeff Main sponsor proprio della società una entrata nuova proprio in casa del centro giovani calciatori nella foto vediamo Silvia Orlandi e ovviamente anche questa è un'altra tifosa affezionata del centro giovani calciatori un'iniziativa sicuramente importante quella della società lodevole perché dà diciamo un premio a chi ha dato fiducia con gli abbonamenti alla società del centro giovani calciatori ricordiamo in A2 il ponteggi forte dei Marmi che ha vinto in casa con il Montebello per 5 a 1 il correggio di Milco Bertrucci che ha battuto il Cremona ok per 5 a 1 Milco Bertrucci già capocanonieri con 8 reti della A2 in testa il correggio Montebello Roller Bassano con 10 punti il forte dei Marmi è a 3 punti Sergio fino all'anno scorso ti faccio una domanda hai sempre giocato con la maglia numero 9 quest'anno hai cambiato numero mi hai raccontato tempo fa perché puoi dircelo? certo certo non c'è problemi praticamente il 21 è stato il giorno del battesimo di mio figlio e il 2 1 il 2 gennaio sarebbe la data di nascita di mio padre quindi per me è stato molto semplice fare la scelta del numero e quindi sono affezionato ora a questo numero la prima volta che lo indosso e sono contento di indossarlo con la speranza che mi porti tanta fortuna noi ovviamente quello che noi ci auguriamo chiaramente tanto io fiducia in te te dici sei modesto 40 reti a Biareggio è difficile farli io mi accontenterei di una trentina e sicuramente ci arriviamo anche perché vedo che vi è alternata anche nei tiri delle punizioni io tutte le volte che noi negli anni passati le punizioni non venivano realizzate diciamo abbiamo festa che abita qui a Torre del Lago giocata prendiamole tira lui prendiamo ne sbaglio anch'io vai tranquillo ne sbaglio anch'io però possiamo dire che è una specialità ecco ti ci allendi è una delle tue doti tra virgolette ma è sicuramente mi piace chiaramente è una sfida col portiere e quindi come tutti gli attaccanti ti affascina questa cosa come gli attaccanti guardano i video e i filmati quindi sei conosciuti ormai sicuramente ogni volta prima di affrontare una squadra si guardano dei video si guarda la posizione si guarda tante cose poi alla fine sono indicazioni perché poi un attaccante quando va avanti alla porta deve cercare di guardare il buco che c'è nella porta poi il resto insomma va bene tutto però è il momento in cui uno guarda il portiere e cerca di spiazzarlo di trovare il buco quello è il momento fondamentale tu ne trovi tanti sì tanto quattro buchi li ha trovati e poi per aver trovato degli altri sì sì il campionato è lungo e come detto prima spero che siano più quelli importanti che quelli che fanno numero sicuramente grazie Sergio di essere stato con noi grazie a voi è stato un piacere Roi grazie come sempre noi chiaramente facciamo gli auguri ad Andrea Becagli tifosissimo del Villareggio Calcio del Loki di tutto lo sport ha un piccolo difetto il tifo a Juventus però insomma lo perdono e di sera avete vinto all'ultimo questo Romagnoli noi milanisti San Romagnoli va bene va bene grazie a Matteo Bertuccelli grazie anche a Vincenzione Calvanese che ci segue in trasferta in casa grazie ancora per le foto a Paola Benedetti e alla nostra mascotte Vittoria Benedetti grazie davvero a tutti di averci seguito da Centropista buonanotte grazie a tutti grazie a tutti